La pandemia ha colpito duramente anche il Brasile, limitando l'attività di operazione lieta. Da metà marzo tutti i bambini e gli adolescenti sono a casa. Molti dei loro familiari che lavoravano in nero sono rimasti all'improvviso senza fonte di guadagno. Sono saltati anche i campi di lavoro estivi con i volontari italiani. La solidarietà però non si è fermata, così come lo spirito d'iniziativa di Lieta Valotti e Angelo Faustini. Quest'anno l'incontro annuale con i tanti sostenitori attraverso le adozioni di stanza si è svolto in modalità online. Qualche giorno fa la nostra direttrice, la nostra assistente sociale sono andate a fare delle visite e questo ci ha confermato le enormi difficoltà a cui vanno a fronte le famiglie, soprattutto ancora di più in questo periodo con la pandemia. Oltre alle difficoltà di quanto si sta affrontando tutto il mondo mettete poi tutta la situazione di violenza a cui questi ragazzi, questi nostri bambini e ragazzi devono far fronte. La situazione sociale è drammatica. Mentre i governi locali hanno spostato la loro attenzione verso l'emergenza sanitaria ed economica, la malavita, il traffico di droga e di armi hanno continuato la loro avanzata nei quartieri di periferia, dettando legge in intere comunità, sequestrando case e appartamenti a famiglie umili, obbligando gli inquilini a scappare da parenti o addirittura ad andarsene dalla città, assoldando bambini e adolescenti che, impossibilitati a seguire le lezioni a distanza, si lasciano trarre dai facili guadagni. E questo ci carica ulteriormente di altre responsabilità e di pensare veramente in che modo continuare ad accompagnarli. Se voi pensate alla presenza in questi quartieri, in queste famiglie, delle varie fazioni criminali che ci sono, che sono quelle che rappresentano il pericolo più grande, dopo la disoccupazione, dopo il fatto di non avere più quegli aiuti dal governo emergenziali che sono stati stanziati, questo è quello che ci preoccupa veramente di più.